Giorgio Gaber diceva, non temo Berlusconi in sé, temo Berlusconi in me. Al di là del credo politico, era una metafora. Credo che la tua chiusa esprima molto questo pensiero, o no? Beh, Gaber ha detto che la sua generazione ha perso. Io ho paura che la mia non abbia proprio neanche giocato, che non sia scesa in campo. E questo è il più grave peccato che abbiamo avuto, nel senso che adesso ci ritroviamo senza particolari vittorie da festeggiare o sconfitte su cui pensare. Forse dovremmo metterci un po' più in gioco e cominciare a giocare. Giudizio su questo salone? Beh, sono arrivato adesso, però ho visto che, come dire, dal punto di vista dei numeri credo sia andato molto bene. C'è un po' di gente. Eh sì, diciamo di sì. Va bene. Grazie.